musica io sono chiamatemi guerriera e questo è un unboxing di un paio di cuffie acquistate dall'interdiscount XXL un negozio che vende tutta la tecnologia e tutte le cose le ho pagate esattamente 29,95 faccio vedere 29,95 e adesso andremo a spacchettare andiamo ad aprirle assieme a 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 3,5 mm jack plug lo mostro questo ha pure il beccuccio per ripararlo poi vi mostro una carrellata della scheda tecnica delle cuffie poi si trova questo che serve per il per il volume delle cuffie credo perché qui c'è una rotellina dovrebbe essere il volume delle cuffie ho messo le cuffie ci sono le cuffie il microfono allora io le ho provate sia come suono e comodità allora comodità io darei un 9 e invece anche sono leggere non sono pesanti come suono anche lì darei un 9 si sente molto bene sono in stereo e sono compatibili con la ps5 xbox series xs io l'ho messa anche al cellulare si sente anche al cellulare e penso che vanno bene anche per il pc niente queste sono le nuove cuffie contenta dell'acquisto per 29 euro vanno benissimo spero che questo video unboxing vi sia piaciuto e spero di usarle presto e al prossimo video se vi è piaciuto lasciate un bel like condividete iscrivetevi in massa e al prossimo video ragazzi da chiamatemi guerriera è tutto baci stellari ciao ciao